Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a tutte e a tutti. Ci troviamo oggi per questo ultimo appuntamento, il quinto, dedicato al consumo sostenibile, di un percorso che stiamo facendo assieme dall'anno scorso, di educazione all'uso del digitale per un consumo consapevole e responsabile. Il consumo sostenibile è uno dei quattro temi che sono entrati a far parte di questo progetto, che è promosso e finanziato, ormai credo lo sappiate, dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, che ha costruito per questo progetto un partnariato istituzionale competente per ciascuno dei quattro temi che compongono, sono come quattro capitoli di uno schema più grande, quello appunto del consumo consapevole e responsabile, che si rivolge a voi docenti delle secondarie di primo e secondo grado, perché possiate riportare nelle vostre classi quelli che sono i temi di sapere consumare. L'educazione digitale innanzitutto, che ha avuto dei momenti di approfondimento dedicato proprio nel primo ciclo dei webinar di questo percorso, ma che è comunque trasversale a tutto il percorso di sensibilizzazione e formazione che stiamo conducendo assieme. I diritti dei consumatori, il consumo sostenibile di cui ci occuperemo anche oggi grazie agli esperti di Enea che vi presenterò tra poco, tira infatti il ciclo di webinar dedicato all'educazione finanziaria e affidato al partner competente per questa materia, cioè Banca d'Italia. Tornando al campo, vi invitiamo quindi a lavorare in classe anche in vista di una competizione che si aprirà tra non molto e che si concluderà in questo anno scolastico in corso e che inviterà proprio le scuole, quindi voi con le vostre studentesse e i vostri studenti, a mettersi alla prova su questi quattro temi così importanti e a presentare progetti. I migliori saranno poi premiati con dei voucher che verranno messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con un fondo da un milione e mezzo di euro perché le scuole possano utilizzarli per potenziare le competenze digitali e le strumentazioni tecnologiche all'interno della scuola. Arrivando all'oggi, di cosa ci occuperemo? Lo sapete per chi di voi ha partecipato anche agli ultimi webinar ci stiamo occupando di tutti i temi che afferiscono al consumo sostenibile, anche al tema della responsabilità che ci riguarda tutti nei confronti del pianeta ma anche delle nuove generazioni con cui ogni giorno voi entrate in contatto. Oggi in particolare con i due esperti di Enea che sono con noi ci occuperemo di cosa succede cambiando e agendo nella nostra vita quotidiana, le nostre abitudini hanno un impatto sul pianeta e di che tipo? Che cos'è questa impronta? Come la possiamo misurare? Come gestire le risorse che abbiamo a disposizione anche all'interno delle nostre case? Ne parleremo in particolare con Luigi Sciuppa che è ricercatore presso l'Enea di Bologna dove si occupa di tecnologie per l'uso e la gestione efficiente di acqua e reflui. Ha conseguito la laurea in ingegneria chimica e il dottorato di ricerca in biotecnologie industriali e ambientali. Sarà con noi anche Silvio Viglia che dal 2021 lavora come ricercatore presso l'Enea dopo varie esperienze in progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Si è lavorato in scienze ambientali e ha conseguito un dottorato internazionale in ambiente risorse e sviluppo sostenibile. Ai due relatori di oggi potrete ovviamente fare domande e potrete interagire con loro nel corso di questo webinar che ci auguriamo sia quanto più possibile interattivo. Cosa ti aspetti da questo webinar? Se potete utilizzate una sola parola e tra poco vedremo comparire sul nostro schermo le vostre risposte. Quindi cercando di capire quali sono le vostre aspettative che ci auguriamo ovviamente di poter soddisfare oggi ma sono sicura di sì grazie appunto all'intervento dei due esperti a informazione. Stavo dicendo infatti ad informazioni che sono certificate scientifiche e quindi ci potranno aiutare oggi magari a toglierci dei dubbi che abbiamo su alcune questioni che sono diventate di grandissime attualità come quello del consumo sostenibile sicuramente lo è e riportarle appunto nelle vostre classi. Consapevolezza grazie a chi lo ha scritto visto che è il tema trasversale e centrale di questo progetto. Chiarimenti e conoscenze, approfondimento, spunti didattici, ci auguriamo assolutamente di darli e vi anticipo anche se non lo avete già visto che nell'area riservata del sito sapereconsumare.it abbiamo iniziato a pubblicare le prime schede didattiche, delle proposte di attività proprio ispirate a tutti i contenuti che i relatori, gli esperti e gli esperti dei webinar hanno tirato fuori, hanno proposto e che potrete quindi utilizzare in classe ovviamente personalizzandole con la vostra esperienza e a seconda dei bisogni specifici delle vostre classi. Informazione, riduzione, conoscenze, cosa possiamo fare noi e questo è il tema della responsabilità a cui accennavo, competenze specifiche, qualcuno scrive anche informazione è la parola che più che compare di più, applicazione, approfondimento e ispirazioni per le classi, spunti creativi, anche questo ci auguriamo sicuramente di portarlo oggi in questo webinar. Allora possiamo chiudere la nuvola per iniziare a rispondere a queste vostre aspettative, per cui lascerei la parola al nostro primo relatore, il primo intervento di oggi, Silvio Miglia. Grazie Nadia e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Oggi come anticipato da Nadia tratteremo un argomento alquanto complesso ma altrettanto dibattuto e mi piaceva iniziare questo mio intervento con un proverbio che dice che le tracce del nostro passaggio danno la misura della nostra educazione e quello che faremo oggi in effetti andremo a identificare che tipo di tracce lasciamo noi sugli ecosistemi e vedremo quali sono i modi per calcolare queste tracce, per misurarle. Questo grafico che vedete in questa slide probabilmente già l'avete incontrato da altre parti ed è il grafico relativo alla crescita esponenziale della popolazione mondiale. Vediamo che questa crescita avvenuta nell'ultimo secolo è veramente impressionante ed è stata resa possibile solamente dallo sfruttamento a scala massiva delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici. In effetti il nostro sistema economico è orientato verso la crescita e un continuamento della produzione e dei consumi. Crescita che richiede quindi sempre flussi maggiori di energia e di materiali. Ovviamente questa crescita è avvenuta a scapito, come dicevo, delle risorse naturali, del cosiddetto capitale naturale, dei servizi ecosistemici e dei beni comuni, possiamo dire. Beni comuni che troppo spesso ancora vengono considerati beni di nessuno piuttosto che essere considerati beni di tutti. Non è solo un problema di numero di abitanti del pianeta Terra. In effetti questo grafico in questa slide mostra chiaramente che quasi il 50% di tutte le emissioni rilasciate sul pianeta sono dovute solamente al 10% più ricco della popolazione. Una notizia apparsa su tutti i quotidiani nazionali qualche mese fa parlava di uno studio pubblicato, uno studio scientifico, che metteva in relazione le emissioni che hanno rilasciato dei turisti spaziali in un viaggio portato alla ribalta dell'attualità recentemente, compiuto da pochi super ricchi. Un viaggio nello spazio che direttamente o indirettamente ha prodotto una quantità di emissioni paragonabili a quelle che vengono rilasciate da un miliardo o meglio dal miliardo di abitanti del pianeta Terra, un miliardo più povero in un anno. Quindi un viaggio che è durato 15 minuti. Quindi vi rendete conto che non si tratta solo di numero di abitanti del pianeta Terra, ma non tutti impattiamo allo stesso modo. In questa slide ho riportato un articolo scientifico che ha fatto storia. In questo articolo l'autore paragona gli esseri umani a degli agenti geologici e mette in relazione la velocità con cui gli uomini stanno alterando le terre emerse con la velocità che i cicli biogeochimici impiegano per fare la stessa modifica. In effetti è stato dimostrato che l'attività umana, quindi l'attività antropica, è dieci volte più veloce nel degradare, nel consumare le terre emerse o meglio di eroderle rispetto a quello che naturalmente succede in natura. Un altro articolo che vi cito qui, in questa slide pubblicato su Science qualche anno fa, invece ci dà un altro dato terribile possiamo dire, perché viene attestato che non c'è un angolo di mare, un angolo di oceano che non riporti la traccia dell'attività umana, a parte secondo gli autori alcune zone remote dei due poli. In effetti ancora più recentemente un altro studio scientifico ha testimoniato la presenza di diossina anche nel grasso degli orsi polari e questo dato impressionante ci dimostra che le nostre tracce sono presenti ormai ovunque sul pianeta. Questa è la concepulenza del nostro impatto sul pianeta, possiamo dire che è relativamente recente, solo negli anni 70-80 si è sviluppata questa sensibilità ambientale, anche grazie ad alcuni grandi pensatori del secolo scorso, tra i quali sicuramente compare Ermandeli. Ermandeli è un economista, oggi professore di politiche pubbliche presso l'Università del Maryland negli Stati Uniti e tra le varie cose ha lavorato anche alla Banca Mondiale ed è ritenuto tra gli altri uno dei fondatori della disciplina scientifica dell'economia ecologica. Ermandeli fu uno dei primi, attraverso questo grafico che vedete nella slide, a identificare il sistema economico come inglobato in quello ambientale. Vediamo che in questo grafico il sistema ambientale è rappresentato come un cerchio e il sistema economico invece come un rettangolo che si trova al suo interno. Sono anche evidenziate le relazioni che il sistema economico ha con il sistema naturale. Vediamo che da un lato ne trae materia ed energia, quindi risorse e dall'altro il sistema economico sfrutta la funzione della capacità dell'ambiente di diluire gli inquinanti e di assorbire i rifiuti. Quindi interagiamo col sistema ambiente in due modi diversi. Il nostro sistema economico, secondo Deli, si è sviluppato in un cosiddetto mondo vuoto, cioè un mondo dove i limiti alla crescita erano dovuti solamente alla disponibilità dei mezzi di produzione. Cosa ben diversa da quello che succede oggi. Oggi secondo Deli ci troviamo in un mondo pieno dove il sistema economico è cresciuto fino a incontrare i confini biofisici del pianeta e i limiti alla sua crescita, il fattore limitante alla crescita non è più dato dalla disponibilità dei mezzi di produzione ma bensì dalla disponibilità delle risorse naturali. In questa slide vediamo in maniera grafica, in maniera visiva e più immediata le due definizioni di mondo vuoto e mondo pieno. Vediamo a sinistra un mondo pieno di risorse naturali con però scarsità di mezzi di produzione, quindi un solo peschereccio. Vediamo quindi le risorse naturali rappresentate come dei pesci e il mezzo di produzione come il peschereccio e a destra invece vediamo una polla di pescherecci dove però i pesci ormai sono quasi assenti. Un altro pensatore che mi faceva piacere citare è Howard Odum. Howard Odum scomparso venti anni fa è ritenuto il padre dell'ecologia sistemica e in effetti lui ha introdotto l'approccio sistemico olistico allo studio dei sistemi ambientali e antropici. lui ha introdotto, a me piace anche questo neologismo, il macroscopio, lui suggerisce di utilizzare uno strumento, una visione dall'alto di questi sistemi per studiarne il funzionamento come un superorganismo, cioè nel senso che questi sistemi complessi presentano delle proprietà emergenti che spesso non possono essere studiate, analizzate semplicemente attraverso l'analisi delle loro componenti e quindi propone il macroscopio come uno strumento complementare al microscopio. Per esempio proviamo a immaginare un sistema urbano come un superorganismo che quindi da un lato consuma cibo, materia, energia e ha bisogno di aria e acqua pulita per funzionare, per vivere e ovviamente per fornire tutta una serie di servizi. Noi nelle città troviamo un posto dove vivere, ne ricaviamo tanti servizi, sicuramente divertimento a posti di lavoro e questo però produce un impatto. Noi inquiniamo l'aria, l'acqua e produciamo rifiuti solidi e quindi tutta una serie di impatti diversi. E qui adesso infatti voglio chiedervi secondo voi se e quanta CO2 può essere, viene associata alla generazione di 100 euro di prodotto interno lordo in una città come Roma per esempio. Il primo sondaggio di oggi che vi vuole rivolgere il nostro primo relatore. Il sondaggio lo avete letto, per generare 100 euro di pille in una città come Roma, secondo voi quanta CO2 viene rilasciata? Avete delle opzioni, selezionate quella che secondo voi è la più corretta, 70 kg, 10 kg, 25 kg non è possibile stabilirlo. Per il 39% di voi la risposta corretta è 70 kg, per il 28% non è possibile stabilirlo, per il 19% 25 kg la risposta corretta, per il 14% invece per generare 100 euro di pille rilasciamo 10 kg di CO2. Questi sono i risultati. Mi fa piacere che la maggior parte dei partecipanti ha risposto correttamente, però secondo me il dato più interessante è quello che un certo numero ha risposto che non è possibile stabilirlo. in realtà vedremo che è sicuramente possibile stabilirlo, ci sono tanti modi per misurarlo, ci sono tante assunzioni dietro questi calcoli, però si può quantificare e quindi vedremo come. Quindi in effetti generare 100 euro di pille a Roma non solo rilascia circa 70 kg di CO2, ma rilascia anche tutta un'altra serie di gas considerati più o meno tossici e nocivi non solo per gli esseri umani ma anche per la fauna e la flora e dall'altro lato richiede anche una certa quantità di materiale abiotico, vedremo una certa enorme in realtà quantità di acqua e così di energia e così via. E quindi tutta una serie di impatti. Come abbiamo visto da un lato impatti relative all'estrazione delle risorse, dall'altro impatti relativi invece a emissione di rifiuti inquinanti. E come vi dicevo è possibile utilizzare questi dati, è possibile produrre tanti indicatori diversi, come abbiamo diviso queste emissioni per i soldi generati a Roma, così si possono dividere per esempio per il numero di abitanti per calcolare quante emissioni sono associate per abitante. E vediamo che in un anno un cittadino medio di Roma o meglio ad un cittadino medio di Roma sono associati per esempio un consumo di centinaia di metri cubi d'acqua o di decine di tonnellate di materiale abiotico e così via. Vi rendete conto però che questi dati e tutti questi numeri che qui in realtà sono molto semplificati in questa slide ma vi assicuro che ne sono tanti di più, sono sicuramente difficili da comunicare. E' qui che ci viene incontro il metodo dell'impronta ecologica. Questo metodo è stato sviluppato da Wagnagel e Ries, due scienziati durante la metà degli anni 90 e con questo metodo si mette in confronto la capacità o meglio la biocapacità del pianeta di produrre risorse e di assorbire inquinanti con quello che in realtà facciamo. Quindi è possibile attraverso questo metodo calcolare quanta superficie di pianeta è impattata da ogni prodotto o da ogni azione che compiamo. E quindi qua abbiamo un altro sondaggio per voi. Secondo voi quanti metri quadri di pianeta vengono impattati da un lavaggio in lavatrice. Ecco il secondo sondaggio. Vi proietto subito le opzioni che avete a disposizione. Quanto misura l'impronta ecologica di un lavaggio in lavatrice? 100, 400, 2.500 o 10.000 metri? Allora il 41% ha risposto 2.500 metri quadrati, il 31% 400 metri quadrati, il 21% 100, invece per l'8% addirittura 10.000 metri quadrati. Interessante che i partecipanti al webinar rispondano per lo più, almeno la loro maggioranza, correttamente. Sì, perché è associato all'impronta ecologica associata al lavaggio in lavatrice è proprio uguale più o meno circa a 2.500 metri quadrati, che è più o meno la stessa superficie di pianeta impattata quando percorriamo 10 chilometri in auto. Vediamo che invece per produrre un chilo di pane c'è bisogno, o meglio si utilizza, si impattano 30 metri quadrati di pianeta. Ovviamente questi sono numeri da prendere sempre con le pinze, non stiamo parlando di numeri esatti, ma stiamo sempre parlando di approssimazioni, assunzioni, ovviamente se facciamo un pane per esempio all'olio sicuramente l'impronta ecologica aumenterebbe tantissimo. Però questo metodo rispetto a un semplice calcolo o elenco di tutte le emissioni che rilasciamo ha un grandissimo merito, ha un merito di comunicare anche visivamente l'impatto sul pianeta. Noi lo riusciamo a quantificare, lo spazio è facilmente quantificabile, quindi ci rendiamo conto a 2.500 metri quadri, è uno spazio abbastanza ampio e dà subito un'idea dell'impatto. E così se mettiamo insieme tutti i metri quadri che impattiamo vediamo che secondo questo grafico più o meno circa nel 1970 stiamo iniziando a consumare metri quadri che in realtà non abbiamo a disposizione. Oggi ci troviamo, vediamo che siamo arrivati quasi ad avere bisogno di due pianeti, cioè il nostro stile di vita sta consumando risorse che in realtà non abbiamo, risorse che prendiamo dal cosiddetto capitale naturale, quindi quello stock di beni naturali che si è formato nel corso di milioni di anni e quindi stiamo intaccando il nostro, se mi permettete un termine economico, il nostro capitale in banca invece di usare solamente gli interessi che potrebbero essere i servizi ecosistemici, cioè tutti quei beni e tutti quei benefici che ricaviamo, che sono disponibili annualmente, che sono prodotti dal pianeta annualmente. Per ritornare al tema delle diseguaglianze e invece a destra vedete che l'impatto cambia tantissimo da nazione a nazione. Sembra che gli australiani impattino molto di più di noi e così via. E vi rendete conto però che forse che questo metodo, che sicuramente ha un grande potere comunicativo, rappresenta forse una super simplificazione del problema, perché in effetti anche recentemente questo metodo è stato aspramente criticato dalla comunità scientifica, prima di tutto per la super simplificazione del problema e poi per delle assunzioni un po' troppo spinte. Per esempio per far sì che funzioni questo modello è stato stimato la capacità bioproduttiva, la biocapacità di un ettaro medio di pianeta, quindi un ettaro virtuale, che in realtà non esiste. Noi sappiamo benissimo che la biocapacità di un ettaro di foresta tropicale è ben diversa dalla biocapacità di un ettaro di deserto, così come la biocapacità di un ettaro di mare aperto con una capacità di un ettaro di mare dove per esempio c'è una barriera corallina. Quindi fare queste medie presenta dei problemi dal punto di vista della robustezza scientifica che c'è dietro a questi numeri. Ed è qui che invece la comunità scientifica sta lavorando tantissimo e c'è un metodo che è quello dell'analisi del ciclo di vita attraverso il quale noi oggi siamo in grado di quantificare l'impatto sull'ambiente dovuto alla produzione di un bene o alla produzione di un servizio considerando tutte le fasi di vita della produzione di questo bene, partendo quindi dalle materie prime, passando alla produzione, considerando anche il trasporto e così via, fino alla fase di uso del bene, alla fase di manutenzione, fino ad arrivare alla fase di fine vita che in un'ottica di economia circolare può comprendere anche una fase di riuso e di riciclo eventualmente. Questa metodologia dell'analisi del ciclo di vita è altamente standardizzata e ci sono delle norme ISO internazionali che ne definiscono precisamente i step procedurali da seguire, quindi prevede quattro fasi ben distinte dell'analisi. La prima fase è quella della definizione dell'obiettivo dello studio e del campo di applicazione, che vuol dire che in questa fase viene ben dichiarato perché facciamo l'analisi, chi è il committente, qual è lo scopo, cosa vogliamo ottenere da questa analisi e poi vengono definiti anche i confini dell'analisi che possono essere non solo geografici o fisici, ma possono essere anche temporali. L'analisi può prevedere una scala di un anno, come abbiamo detto prima, per esempio quella relativa alla città di Roma, ai sistemi urbani, ma può essere svolta anche a scala più ampia, a scala temporale più ampia. Questa prima fase viene eseguita poi da una fase dell'inventario. Questa fase è cruciale e sicuramente quella che richiede più tempo consiste nella raccolta di tutti i dati relativi alle varie materiali che vengono utilizzati dal processo produttivo, tutti i flussi energetici, così come tutte le emissioni. Quindi viene proprio stilata una cosiddetta lista della spesa, possiamo dire. Tutto quello che viene consumato dal processo produttivo in tutte le varie step. Ora, nell'ultima fase, quella della valutazione degli impatti, che succede? Questi dati grezzi raccolti, ognuno nella propria unità di misura, ovviamente se il nostro sistema consumerà elettricità avremo la quantità in kilowattora consumata, così come metri cubi d'acqua, e così tutti questi dati di input e anche le emissioni, come abbiamo visto prima, CO2, ma anche CO2, ossidi di azoto e così via, vengono convertiti in impatto potenziale sull'ambiente. Ora, però, ci sono tantissime problematicità ambientali, non c'è un unico impatto sull'ambiente. I problemi ambientali, lo sappiamo, sono tanti. E la comunità scientifica, o almeno gli analisti del ciclo di vita, hanno trovato più o meno consenso su una serie di problematicità, possiamo dire più rilevanti, o forse più urgenti. Sono circa 15, 20, e queste comprendono tanti problemi, tra cui uno, per esempio, io qui adesso ve ne cito qualcuno, per esempio la riduzione dell'ozono, lo stato di ozono. Questo è un fenomeno abbastanza conosciuto da tutti, ne abbiamo letto molto, soprattutto negli anni passati. Ci sono alcune molecole che vanno a interferire sull'ozono che si trova nello strato stratosferico dell'atmosfera e che produce una riduzione, un assottigliamento di questo strato e così permette questo assottigliamento ad una quota rilevante di radiazioni ultraviolette a raggiungere la superficie terrestre, creando vari problemi. Un'altra problematicità presa in considerazione della ciclo di vita è l'acidificazione. Probabilmente i meno giovani ricordano il fenomeno delle piogge acide nel nord Europa, un fenomeno che stava distruggendo le ultime foreste che abbiamo in Europa e che si trovano appunto nelle zone più settentrionali del nostro continente ed era dovuto principalmente all'alta presenza di zolfo nelle benzine. Questo problema è stato affrontato e parzialmente risolto con l'introduzione della benzina cosiddetta verde al ridotto contenuto di zolfo e in effetti è stato dimostrato che il fenomeno dell'acidificazione o almeno della pioggia acida su quelle foreste è stata, diciamo, la situazione è migliorata, si è andate verso un miglioramento. Un'altra problematicità ambientale che nel gergo di analisi del ciclo di vita prende il nome di categoria di impatto, vedete che fino adesso abbiamo visto diverse categorie di impatto considerate in questa metodologia. Un'altra è la formazione di smog fotochimico. Questo smog che produce effetti tossici non solo sulla fauna e la flora ma anche può essere molto nocivo direttamente per la salute degli esseri umani. Un'ulteriore categoria di impatto presa in considerazione nell'analisi del ciclo di vita è l'eutrofizzazione. L'eutrofizzazione è causata dall'eccessivo uso di fertilizzanti in agricoltura che poi finiscono nei corsi d'acqua e vanno a fertilizzare o meglio ad alterare i corsi d'acqua dolce, i laghi, gli stagni fertilizzando le alghe e che provocano tutta una serie di alterazioni degli ecosistemi dovute a mancanza di ossigeno e quindi moria di specie acquatiche e così via. Ora tra queste categorie di impatto c'è anche il famosissimo riscaldamento globale. Allora qui abbiamo un altro sondaggio per voi e vi chiediamo se avete mai affrontato con i vostri studenti e le vostre studentesse di questo argomento. Allora sì, lanciato il sondaggio, quindi magari raccontateci anche le vostre esperienze se volete sulla chat per arricchire comunque questo sondaggio che serve appunto a condividere poi anche eventualmente buone pratiche e leggo anche qualcosa che avete scritto durante la relazione di Silvio Miglia. Innanzitutto un riferimento alle attività economiche, quindi quando abbiamo parlato anche dell'impatto della produzione del PIL, bisognerebbe riconoscere il costo ecologico di un'attività economica, scrive una docente connessa. Il bilancio ambientale dovrebbe essere obbligatorio e non mi pare ancora lo sia. Sì, ancora diciamo lo sta diventando obbligatorio per alcuni prodotti, per alcune attività, però sicuramente si va verso quella direzione. Un'altra docente scrive, anticipando un tema di cui parleremo, io so tra poco, qual è l'impatto di un'ora di collegamento su piattaforme come questa? E qui insomma anche il legame con il digitale di cui ci stiamo occupando proprio con questo progetto, no? Un uso del digitale più consapevole e responsabile. Sì, però non vorrei anticipare le prossime slide. Condivido intanto i risultati del sondaggio che sono netti, no? Mi pare che comunque i docenti parlano tantissimo di questo argomento, il 90% dei docenti ha risposto sì, ne ho parlato in classe. Qualcuno poi scrive, sì da 30 anni perché insegno ecologia, a partire dai programmi sperimentali degli anni 90. E qualcun altro, sì, ma in modo superficiale, perché essendo insegnante di lettere non ho una buona preparazione su questi argomenti, tuttavia a geografia è necessario citarlo. E vorrei leggere questo commento che è arrivato poco fa, perché secondo me è bellissimo. Datemi soltanto un secondo per ritrovarlo, perché ci tenevo a leggere non solo i nostri relatori, ma in generale per tutti, che riguarda il tema appunto della preparazione, cioè il fatto di essere comunque competenti o meno, ci riguarda in realtà tutti. È il webinar più, tutti perché dobbiamo sempre continuamente aggiornarci, quindi è il webinar più drammaticamente sorprendente e che mi vede totalmente impreparata, estremamente utile e necessario per far riflettere noi e i nostri studenti. Io l'ho trovato un commento bellissimo, quindi bravo tu e bravo tra poco sicuramente anche l'altro relatore, insomma, per l'opportunità che ci date di imparare. I capitoli sull'atmosfera dei testi di oggi hanno tutti un paragrafo sul riscaldamento globale, ci aggiorna una docente. Gli alunni sono rimasti impressionati dalla visione di Before the Flood, non lo conosco. Before the Flood. Ah sì, forse è un documentario, sì, ci sono diversi documentari che danno una visione emergenziale di quello che sta succedendo nel pianeta, che hanno quindi questo merito divulgativo e che sicuramente possono essere visti insieme agli studenti. riscaldamento globale. Infatti un altro docente scrive proprio riferimento allo stesso documentario molto utile da far vedere in classe sul riscaldamento globale. Vi ho letto insomma i commenti principali, adesso se ne arrivano altri magari mi permetto di ribloccarti durante la relazione, ma insomma mi sembra che ci sia esperienza che però qualcuno lamenti il fatto di aver necessità comunque di attingere e speriamo che oggi sia utile anche in questo senso. Quindi rilascio la parola. Va bene, quindi mi fa piacere sapere che sta risultando interessante questo webinar e quindi ritorno al mio discorso. Cosa stavamo vedendo? Stavamo vedendo tutte le categorie o almeno alcune categorie di impatto considerate nella metodologia dell'analisi del ciclo di vita e tra queste, come avevamo anticipato, c'è il cosiddetto global warming, riscaldamento globale, spesso chiamato anche climate change e questa categoria di impatto ormai ne parliamo tutti ed è conosciuta, è famosissima. È forse la categoria di impatto più famosa e più conosciuta, però mi preme sottolineare qui che non è l'unica, ce ne sono diverse e appunto bisogna fare attenzione e vedremo perché. Abbiamo visto quindi diverse categorie di impatto, ad ogni categoria può essere associato un'indicatore. Per quanto riguarda il riscaldamento globale, l'indicatore preso come riferimento è la cosiddetta impronta di carbonio. Allora, che cos'è l'impronta di carbonio? L'impronta di carbonio corrisponde alla quantità totale dei gas serra emessi in atmosfera direttamente o indirettamente associata a un prodotto o a un servizio e quindi viene espressa in termini di CO2 equivalente. Ma che vuol dire CO2 equivalente? Allora facciamo un salto indietro. Prima abbiamo parlato di CO2 associata a 100 euro di PIL. Lì in quel caso parlavamo di CO2 vera, di CO2 effettiva, però adesso qui invece si parla di CO2 equivalente. Allora che vuol dire? Allora se torniamo un attimo dietro alla fase, quando ho parlato della fase di valutazione degli impatti, il terzo step dell'analisi del ciclo di vita, in quella fase si convertono tutti l'inventario, come ho detto, quindi tutte le emissioni anche rilasciate dal processo produttivo in CO2 equivalente. E come si fa? Noi sappiamo che ci sono tutta una serie di gas cosiddetti clima alteranti, gas serra e tra questi c'è sicuramente l'anidride carbonica, la CO2, ma non è l'unico e non è neanche il gas più fortemente clima alterante. Per esempio il metano, noi rilasciamo in atmosfera anche metano e il metano è un gas molto più clima alterante della CO2 e per la precisione 25 volte di più. Quindi emettere un chilo di metano in atmosfera equivale a dire emettere 25 kg di CO2 e quindi attraverso questo ragionamento, questo calcolo è possibile convertire tutte le emissioni rilasciate da un processo in CO2 equivalente e così è possibile calcolare questo indicatore della carbon footprint, dell'imprunta di carbonio, che ci dà una misura di quanto il nostro sistema che stiamo investigando impatta sulla categoria del riscaldamento globale e solo del riscaldamento globale. E qui vi mostro un grafico che è molto discusso ultimamente e quindi diciamo di attualità. Vediamo l'imprunta di carbonio associata a varie tecnologie che si usano attualmente per produrre elettricità e forse come vi aspetterete l'impronta di carbonio più grande è quella legata alla produzione di elettricità attraverso il carbone e attraverso i combustibili fossili. Invece le impronte quelle più piccole sono quelle delle rinnovabili e tra queste vediamo la colonia del nucleare che effettivamente sembra essere quella più bassa e lo è. In termini di impronta di carbonio su una scala temporale ristretta produrre elettricità attraverso il nucleare non va così ad influenzare il riscaldamento globale. E questo però qui che diciamo bisogna porre attenzione non vuol dire che il nucleare sia più sostenibile di un'altra tecnologia e non è nemmeno questa la sede per esprimere il mio parere su quale sia il modo migliore. Semplicemente quello che mi interessa è discutere con voi la criticità che bisogna avere, lo sguardo critico che bisogna avere quando leggiamo qualsiasi dato e qualsiasi informazione. Qui probabilmente la scala temporale dell'analisi è ristretta a un anno o poco più e quindi non vengono presi in considerazione tutto quello, gli impatti che possono esserci per esempio con l'elnicolare, adesso stiamo parlando su scala temporale più ampia. Bisognerebbe andare a leggere l'articolo dove è stato pubblicato questo grafico perché per sapere cosa i ricercatori hanno incluso nei loro confini dell'analisi. Si hanno incluso per esempio che per custodire delle scorie nucleari c'è bisogno di una sorveglianza militare perché possono essere oggetto di attacchi terroristici e quindi ovviamente ci sono tutta una serie di emissioni che forse bisognerebbe considerare. E ora abbiamo un sondaggio per voi, ritornando e ricollegandoci a un commento che è stato fatto in precedenza. Secondo voi cosa impatta di più sul riscaldamento globale in termini tra una, quanto parliamo di comunicazione, quindi cosa impatta di più secondo voi tra inviare una mail oppure inviare un messaggio di testo con un telefonino oppure una lettera cartacea tradizionale. Quindi qual è l'impronta di Carboni associata a questi tre modi diversi di comunicare. I risultati del sondaggio, eccoli li vedete ora, un 37% si è distribuito ugualmente, 37% e 37% tra inviare una mail e inviare una lettera cartacea tradizionale. Ricordiamo che appunto siamo il tema delle comunicazioni, sia le nuove che le vecchie, ma ancora attuali comunque, mentre il 26% ha risposto che inviare un sms impatta di più sul riscaldamento globale. Quindi c'è un po' di incertezza su questo sondaggio, diciamo che i partecipanti si sono un po' distribuiti tra le tre opzioni in modo più o meno equo. Allora, per darvi qualche numero, inviare una lettera cartacea fatta di carta riciclata e quindi con l'impegno di riciclarla, quando la si riceve, rilascia circa 140 grammi di CO2 equivalente in atmosfera, mentre all'invio di una mail sono associati circa 14 grammi di CO2 equivalente, ma se non se non alleghiamo niente, ma se ci alleghiamo una fotografia, il messaggio all'email si arriva anche a 40-50 grammi di CO2 equivalente. Mentre un messaggio di testo inviato col cellulare impatta nella misura di 0,015 più o meno grammi di CO2 equivalente, quindi molto meno, anche se è vero che bisogna tenere presente che magari inviamo molti più messaggi di testo col telefonino rispetto a email. Quindi bisognerebbe poi vedere, moltiplicare questi fattori per il numero di messaggi che inviamo e fare un confronto se impattiamo più inviando email o messaggi di testo. Un'altra categoria di impatto che viene presa in considerazione nell'analisi del ciclo di vita è il consumo di acqua, un tema che poi mi lega alla successiva presentazione e quindi in inglese viene chiamata water depletion o anche water footprint, che sarebbe l'indicatore associato a questa categoria di impatto che comunque è molto importante. Anzi, a seconda poi di dove ha la sua rilevanza, vedremo dopo però. E comunque l'implonta idrica viene definita come il volume di acqua direttamente e indirettamente associata alla produzione di un bene e quindi possiamo dire virtualmente inclusa in un prodotto. E qui per esempio in questa slide vediamo alcuni esempi di impronta idrica associata a alcuni beni che consumiamo quotidianamente. A me fa impressione vedere l'implonta idrica della cioccolata perché ammetto di essere molto goloso e quindi questo è un tema che mi tocca molto. E quindi vediamo che l'implonta idrica come forse si sa perché se ne è parlato anche della carne è molto elevata perché ovviamente c'è tanta acqua in agricoltura per crescere i foraggi e quindi non solo l'acqua direttamente bevuta tra virgolette dagli animali ma anche l'acqua virtuale utilizzata per crescere i mangimi. Ed infatti adesso vi lascio con una curiosità perché c'è stato uno studio che ha quantificato l'impronta idrica associata a percorrere in una certa quantità di chilometri utilizzando biocombustibile che viene quindi da prodotti vegetali. E però vi lascio col dubbio e la curiosità di andare a cercare quanta acqua è associata a questo processo. Ovviamente ci troviamo adesso di fronte a tutta una serie di indicatori che è anche difficile da mettere in riga per confrontare diversi prodotti. Come abbiamo visto prima è difficile confrontare vari modi di produrre elettricità, lo possiamo vedere secondo il punto di vista del riscaldamento globale ma anche secondo il punto di vista di altri impatti. E qui ci viene incontro un progetto di ricerca coordinato ad Enea ma al quale partecipano anche il CNR oltre a diverse università italiane e aziende private con il quale stiamo lavorando, io mi sono aggiunto da poco a questo team ma stiamo lavorando per una certificazione per valorizzare non solo i prodotti made in Italy ma prodotti made in Italy che abbiano una prestazione ambientale certificata e quindi una prestazione ambientale certificata e quantificata e valutata attraverso proprio l'analisi del ciclo di vita. Quindi concludendo abbiamo visto che le nostre attività impattano sull'ambiente in tanti modi diversi e ci sono tanti impatti diversi ed è possibile quantificare questo impatto in tanti modi diversi anche. Tra questi abbiamo visto l'impronta ecologica e tutte le categorie di impatto invece che vengono considerate attraverso la metodologia dell'analisi del ciclo di vita. Però la cosa più importante secondo me è che non bisogna mai affidarsi ad un solo indicatore per valutare se un prodotto è meglio di un altro o se stiamo migliorando il nostro impatto e invece bisogna utilizzare un ventaglio di indicatori quanto più ampio possibile e non bisogna dimenticare che stiamo parlando solo di impatto ambientale almeno in questa sede e per far sì invece che un sistema sia valutato sostenibile bisogna per forza prendere in considerazione anche tutti gli aspetti economici e sociali legati a a quel sistema e quindi non solo chiaramente questo è un punto è un punto di vista quello ambientale ma che deve essere integrato anche da altri punti di vista. Grazie a Silvio Viglia per questo interessante intervento continuando anche il discorso diciamo sulle comunicazioni c'è chi commentava che c'è da valutare anche diciamo l'impatto dell'infrastruttura Le infrastrutture vengono assolutamente incluse in questa valutazione del ciclo di vita ovviamente il loro contributo al processo viene diviso per il loro tempo di vita per quanto tempo vengono utilizzate per produrre quella quantità di materiali però assolutamente le infrastrutture vengono considerate all'interno del ciclo di vita. Grazie per la precisazione adesso passiamo alla seconda parte del webinar di oggi ovviamente continuate eventualmente a scrivere domande poi ci torneremo al termine se avete ancora qualche curiosità da chiedere a Silvio Viglia quindi adesso passo la parola a Luigi Sciuba. Grazie, grazie Nadia per la presentazione, grazie ai docenti che hanno mostrato le loro aspettative nei confronti di questo webinar e grazie anche al collega Silvio Viglia che nella parte finale del suo webinar ha accennato al problema, al tema della water footprint ed è proprio da lì che vorrei iniziare il mio seminario. Infatti il consumo di acqua non è legato solamente ai cibi che mangiamo o agli indumenti che andiamo a indossare ma anche sicuramente in maniera importante le nostre abitudini quotidiane che costituiscono quello che chiamano impronta di acqua idrica diretta legata alla pulizia personale o della casa, attività quali fare la doccia, lavarsi i denti, pulire i pavimenti comportano un consumo idrico. Vi do alcuni numeri, si stima che in media in Italia ogni persona consumi 200 litri di acqua al giorno, principalmente per l'igiene personale della casa. Più nel dettaglio si stima che per l'igiene personale si consumino 70 litri al giorno a persona, il 35% del consumo totale. Altri 50 litri sono impiegati per il flussaggio della toilette, 25% del consumo totale. E poi via via con consumi sempre minori altre attività come il lavaggio delle stoviglie, degli indumenti, l'acqua utilizzata in cucina, quella utilizzata per la pulizia della casa, del giardino, per il lavaggio dell'auto e altri usi per un totale di circa 200 litri d'acqua. Nel tempo stiamo diventando un po' più virtuosi ma comunque stiamo parlando di un quantitativo abbastanza ingente. Più nel dettaglio fare la doccia comporta un consumo di acqua che può raggiungere 15 litri al minuto, lo scarico del WC fino a 20 litri per ogni flussaggio e un lavaggio di lavatrice, nei casi peggiori, può consumare fino a 150 litri di acqua. Però utilizzando alcuni accorgimenti si può ridurre naturalmente questo consumo di acqua domestica. Per esempio installando dei soffioni per doccia a portata ridotta si può passare da 15 litri al minuto a 9 litri al minuto. Oppure utilizzando il flussaggio della toilette a flusso differenziato si può passare dei 20 litri per scarico, condizione peggiore, ai 5 litri per scarico col tasto più piccolo. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, passando da una lavatrice di vecchia generazione che consuma fino a 150 litri al lavaggio, si può arrivare a 80 litri al lavaggio, praticamente la metà, con una lavatrice di nuova generazione che oltre a consumare meno acqua consuma anche meno energia, quindi con un risparmio in termini idrici ed energetici ed economici. Queste sono solo alcune pratiche virtuose e mi piace iniziare questa parte del seminario chiedendovi quale di queste pratiche che vi vado a elencare consente di risparmiare mediamente, nell'arco di una giornata, il maggior quantitativo di acqua. Le pratiche le stanno già vedendo sullo schermo i docenti connessi e sono chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, chiudere il rubinetto durante la rasatura, utilizzare lo scarico del dc a flusso differenziato oppure lavare frutta e verdure in ammollo anziché sotto acqua corrente. Opzionate quella che secondo voi è la pratica che consente di risparmiare nell'arco di una giornata il maggior quantitativo di acqua o magari quella che utilizzate voi più spesso. Condivido i risultati di questo sondaggio, la metà di più della metà, il 52% dei docenti, ha valutato utilizzare lo scarico del dc a flusso differenziato come la pratica più economica dal punto di vista del risparmio di acqua. Il 24% invece ha opzionato lavare frutta e verdure in ammollo anziché sotto acqua corrente, il 19% chiudere il rubinetto mentre si lavano i denti e solo il 5% invece reputa che sia una pratica che faccia risparmiare così tanta acqua in realtà non sia chiudere il rubinetto durante la rasatura, solo il 5% lo pensa. Innanzitutto tutte le risposte erano relative a pratiche virtuose, non c'era un'opzione da scartare a priori perché sono tutte pratiche che consentono di risparmiare di acqua, ma quella che consente il maggior risparmio è proprio chiudere il rubinetto mentre si lavano i denti che consente di risparmiare mediamente al giorno 30 litri. Anche chiudere il rubinetto durante la rasatura e utilizzare uno scarico di bc a flusso differenziato consente di risparmiare 20 litri d'acqua in media al giorno. Il motivo per cui chiudere il rubinetto consente di risparmio maggiore è che è un'operazione che viene ripetuta più volte durante il giorno e di fatto è una logica on-off, è chiuso del tutto, non si spreca neanche acqua, invece il flusso differenziato del bc si riduce i consumi ma lo scarico viene comunque effettuato. Anche lavare frutte e verdure in ammollo anziché sotto l'acqua corrente consente in media un risparmio di 5 litri di acqua al giorno. Altra pratica fuori concorso perché palesemente consente un risparmio ingente di acqua è quella di utilizzare lavastoviglie e lavatrice solo a pieno carico, questo ci consente un risparmio medio tra i 40 e i 60 litri. Oggettivamente queste pratiche non si escludono a vicenda, si può benissimo chiudere il rubinetto durante il lavaggio dei denti, chiuderlo durante la rasatura, utilizzare scarico del bc a flusso differenziato e lavare frutte e verdure in ammollo e anche fare la lavatrice a pieno carico. Infatti proviamo a sommare tutti questi risparmi, 30 più 20 più 20 più 5 più 40 per star bassi, arriviamo a un risparmio medio di 120 litri di acqua a persona, al giorno, e quindi vuol dire che in un mese ogni persona potrebbe risparmiare 3.600 litri di acqua e in un anno il risparmio personale arriverebbe a 43.200 litri di acqua. Se consideriamo un paese di 10.000 abitanti, non può essere il paese in cui sono nato, con questi suggerimenti si potrebbe arrivare a un risparmio di più di 400 milioni di litri di acqua all'anno, che è una cifra enorme. Per avere un'idea quanto sono 400 milioni di acqua, pensiamo a una piscina olimpionica da 2.500 metri cubi ciascuna, bene, il risparmio di un paese in un anno ammonterebbe a 160 piscine olimpioniche, che è una cifra veramente enorme a pensarci. E queste sono solo 5 pratiche, ce ne sono tante altre, che possiamo attuare in aggiunta a quelle che abbiamo già descritto. Come già detto si possono acquistare degli elettrodomestici, soprattutto lavastoviglie e lavatrice, che sono i più idrovori, i più avidi di acqua, di nuova generazione, basso consumo idrico ed energetico. Non si devono sciacquare i piatti con l'acqua corrente se poi si usa le lavastoviglie, tanto vengono bene uguale. Conviene lavare l'auto mettendo l'acqua in un secchio e non con una pompa, conviene preferire la doccia al bagno e nel farsi la doccia conviene installare dei soffioni per doccia a bassa portata. Oltre a questo c'è un altro accorgimento che consente di sparare molta acqua ed è questo, il controllo periodico della tenuta dei rubinetti per scoprire eventuali perdite. Pensiamo che un rubinetto che gocciola consuma mediamente 3 litri di acqua al giorno e corrispondono a 1000 litri di acqua all'anno e questa è proprio acqua sprecata, perché se pensiamo a un bagno, vabbè ogni tanto ci può stare a fare un bagno, è rigenerante, consumiamo acqua ma ne abbiamo un vantaggio. Un rubinetto che gocciola non fornisce alcun vantaggio, anzi pure fastidioso e quindi questo controllo aiuta sia le proprie tasche che la sostenibilità ambientale. Tutte queste sono delle pratiche da adottare per adottare gli stili di vita più virtuosi, ma sono ancora più importanti se si pensa che le risorse idriche del pianeta sono limitate, per dire solo il 3% dell'acqua disponibile sul pianeta terra, il pianeta dell'acqua, è acqua dolce e di questo un terzo solo è disponibile, il resto è nelle calotte polari. Con stress idrico intendiamo un consumo di acqua di fatto troppo elevato in confronto alle disponibilità di acqua in una certa zona e il concetto di stress, io da ex docente conosco cos'è lo stress, lo stress si ha quando una risorsa è limitata, il tempo nel caso dei docenti, però le richieste di tempo per riunioni, moduli è elevata e si genera lo stress. Per la risorsa idrica è la stessa cosa. Quali sono i fattori di stress per la risorsa idrica, i cambiamenti climatici, con conseguente siccità anche spesso alternata a forti piogge, i prelievi idrici eccessivi, le perdite nella rete di distribuzione non solo nel rubinetto ma anche negli acquedotti e soprattutto in certe zone del mondo l'inadeguatezza dei servizi igienico-sanitari. Tutto questo porta a quella condizione che chiamiamo stress idrico. Anche qui alcuni numeri, sono sempre riportate le cause dello stress idrico, l'incremento demografico, gli standard di vita e l'ineguata gestione dell'acqua e di scarico, cioè l'acqua e reflue, ma i numeri forse sono ancora più significativi. 750, i milioni di persone che non hanno accesso a fonti idriche sicure, quindi stiamo parlando con i numeri attuali di quasi un decimo delle persone del pianeta. 2 miliardi e mezzo, le persone che vivono nei paesi in via di sviluppo che non possono contare sull'adeguata gestione delle acque e reflue. 40% è la percentuale che rappresenta la domanda idrica mondiale che andrà a superare le risorse utilizzabili di questo 40% entro il 2030 e il 2030 è dietro l'angolo. Facciamo un paragone tra due paesi che hanno in comune solo i colori della bandiera. In Italia il consumo giornaliero di acqua supera i 200 litri al giorno, in Italia la dotazione idrica pro capite è di 250 litri al giorno, quindi lo stress è elevato perché il consumo ad essere elevato. In Madagascar la disponibilità di acqua è bassissima, la dotazione idrica pro capite supera a malapena i 10 litri al giorno, quindi lo stress idrico c'è perché le disponibilità sono molto limitate, quindi due diverse cause per uno stesso effetto e questo è particolarmente significativo. Rimanendo in un'area geografica un po' più ristretta, cerchiamo, dopo aver introdotto il concetto di stress idrico, di vedere quali sono i consumi in Europa. Diamo una connotazione però un po' più rigorosa prima. Lo stress idrico può essere caratterizzato da un parametro che chiamano water stress index, cioè che il rapporto in percentuale tra la quantità di acqua estratta, quella utilizzata, e quella disponibile in una certa area. Se questo parametro risulta sotto il 10%, beh, possiamo stare tranquilli, lo stress è basso. Tra il 10 e il 20 medio basso, 20-40 bisogna cominciare a preoccuparsi, stress idrico medio alto, oltre il 40 il problema è già arrivato, stress idrico alto. Ecco, rimanendo in un'area geografica abbastanza limitata soprattutto con stili di vita tutto sommato omogenei, cerchiamo di capire quali possono essere le nazioni europee che sono maggiormente sottoposte allo stress idrico, cioè a una bassa disponibilità e un elevato consumo idrico. Vediamo con questo sondaggio. Le opzioni sono Svezia e Gran Bretagna, Francia e Portogallo, Spagna e Italia, Malta e Cipro. Di questi quindi abbinamenti, quale secondo voi è quello che è soggetto al maggiore stress idrico? La maggior parte, 65%, quindi una quota ben oltre la metà, Spagna e Italia, ha citato Spagna e Italia. Per il 26% Malta e Cipro, per il 9% Francia e Portogallo, nessuno pensa che Svezia e Gran Bretagna siano soggetti a stress idrico. Bene, i risultati sono interessanti perché la quasi totalità dei docenti ha individuato nell'area meridionale, mediterranea dell'Europa lo spot di maggiore stress idrico. Qui in effetti la cartina mostra in rosso, rosso scuro, le aree maggiormente sottoposte a stress idrico. Lo stesso concetto è espresso dall'istogramma sulla sinistra e quindi l'Italia e gli altri paesi del Mediterraneo sono effettivamente quelli che risentono maggiormente lo stress idrico, principalmente per motivi geografici e climatici. Le abitudini in Europa sono abbastanza omogenee, sebbene pare che i britannici siano un po' più virtuosi sul consumo idrico. Le nazioni del centro del nord infatti sono meno interessate da questo problema. Con le bandiere riportate sulla destra vediamo che infatti Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia hanno uno stress idrico basso. Nazioni come Francia e Portogallo si trovano a un livello medio-basso. Spagna e Italia sono in una situazione preoccupante perché è uno stress idrico medio-alto, ma come una buona percentuale di voi ha intuito, le nazioni maggiormente interessate allo stress idrico sono le isole mediterranee, proprio per anche la bassa estensione del loro territorio che hanno uno stress idrico alto. E dunque la risposta che risultava corretta era quella di Malta e Cipro. Ad ogni modo Spagna e Italia che molti di voi avevano individuato come paesi maggiormente colpiti non possono stare sereni, avendo uno stress idrico medio-alto 20-40%. E infatti focalizziamoci sul nostro paese. Italia è tra i paesi soggetti a stress idrico medio-alto. C'è da considerare che la situazione non è omogenea, ci sono aree caratterizzate da scarsità di acqua, altre con stress idrico crescente, quindi si stanno avvicinando alle zone meno fortunate, sempre a causa dei cambiamenti climatici, delle infrastrutture, dell'obsolescenza delle infrastrutture e in molti casi della contaminazione delle acque. Cosa possiamo fare? Per una più efficiente gestione della risorsa idrica è necessario uno sviluppo di soluzioni innovative in tutte le fasi dei processi produttivi che comportano in più di acqua. E quindi favorire approcci finalizzati al riutilizzo, recupero e riciclo dell'acqua. Nell'ottica dell'automia circolare che probabilmente molti di voi ormai avranno già conosciuto a fondo, si può applicare questo concetto a molte risorse e ovviamente anche alla risorsa idrica, la risorsa acqua, pensando a un suo riciclo alla fine del ciclo produttivo. In quest'ottica è sempre bene pensare a minimizzare la produzione di flussi di rifiuto nell'ottica dell'economia circolare, quindi prevedere un riciclo dopo la fase produttiva e di distribuzione. Come possiamo applicare questo alla risorsa idrica? Una delle soluzioni più interessanti per realizzare un percorso circolare relativo all'acqua è quella del riutilizzo idrico delle acque affinate, cioè le acque uscente dai depuratori. In questo grafico sono mostrate alcune idee per il riutilizzo delle acque affinate, ma su questo vorrei tornare dopo, vorrei dare prima qualche definizione, la definizione di acqua reflua e di acqua affinata. Le acque reflue sono le acque di scarico che devono essere trattate per legge in appositi impianti depuratori. Le acque uscenti dai depuratori, quindi trattate e depurate, sono le cosiddette acque affinate, già il termine fa capire che possono essere qualcosa di affinato, quindi di utile, mentre poco tempo fa erano semplicemente definite acque depurate, oppure in inglese reclaimed water. Acque affinate ci dà l'idea che non sono dei volumi di acqua da considerare poco. Anche qui alcuni numeri possono dare degli esempi molto chiari. 18.000 impianti di depurazione acqua è presente sul territorio italiano. 9.769.661.947 metri cubi, non è il monte premi di un concorso, ma sono i miliardi di metri cubi di acqua che sono stati prodotti da questi depuratori. In genere la maggior parte di questi volumi idrici è smaltita attraverso canali o altibacinidici, quindi esce da quel ciclo virtuoso dell'economia circolare. Beh, allora forse si intravede una soluzione. Abbiamo due problematiche, quella delle acque reflue e delle acque affinate, perché c'è necessità di trattamenti depurativi sulle acque reflue e ci sono elevati i volumi di acque affinate. L'altra problematica è quella sovracitata dello stress idrico, perché c'è un elevato consumo idrico e perché c'è un eccessivo sfruttamento delle fonti idriche tradizionali. Tutto questo può essere affrontato come? Beh, può essere affrontato con l'utilizzo delle acque affinate come fonte idrica alternativa. Questa soluzione risponde a due interessanti principi. La circolarità, perché ci consente di rimettere nel ciclo le acque dopo la depurazione e la valorizzazione, perché con una sola soluzione può risolvere due problemi, quello dei volumi di acqua reflue e quello dello stress idrico. In maniera molto più schematica l'idea sarebbe questa. Le acque reflue, cioè le acque di scarico, vengono trattate come sempre nei depuratori per soddisfare i limiti di legge, trattate con le adeguate tecnologie, quindi con investimento anche di risorse e diventano acqua affinata. Bene, non vogliamo più andare a smaltirle in canali, ma vogliamo in qualche modo valorizzarle. Chiediamoci, anzi, vi chiedo come. Come le possiamo andare a valorizzare? E su questo possiamo lanciare il sondaggio. Potete usare la chat per dirci se provate ad immaginare o magari già sapete quali sono le modalità per utilizzare queste acque. Scusami l'interruzione, continua pure. Sì, aggiungo che fra i vari utilizzi che potete immaginare, potete scatenare la fantasia, vi chiedo solo di escludere l'utilizzo potabile, perché forse è un po' troppo ambizioso, ci vorrebbero degli standard di qualità troppo elevati e non sarebbe conveniente da alcun punto di vista, né economico, ma probabilmente neanche sociale. Quindi con questa premessa possiamo vedere quali idee avete riguardo al riutilizzo delle acque affinate. impianti di raffreddamento di settori industriali, quindi simile, lavorazioni industriali, mi confermate che è tutto ok perché vedo dei problemi? Ok, grazie. Uso nell'agricoltura, orti, lavaggi, auto, quindi irrigazione. Vediamo cos'altro. Uso agricoltura di nuovo, quindi usarla per usi domestici non potabili però. Quindi è rimasto dentro, questa docente è rimasta dentro le direzioni che avevi dato. Autolavaggi, scarico water, impianti di riscaldamento casalinghi e lavaggi macchinari e anche fontane. Questi sono i suggerimenti dei docenti, vediamo forse è arrivato qualcos'altro. Lavorazioni industriali, uso agricolo, domestici non potabili, di nuovo uso industriale e non potabili. Risposte molto interessanti e pertinenti, per il semplice fatto che sono tutti usi possibili. Pulizia strade, questa era nuova. Ottimo, perfettamente centrato. Quindi tutte le vostre opzioni sono corrette. Io ho pensato a riassumere tutti i possibili utilizzi in tre ambiti. Quello agricolo, quindi irrigazione, che è stato sicuramente citato. Secondo ambito, quello civile, lavaggio strade, anche quello è stato citato. Fontane ornamentali, anche quello è stato citato. Terzo ambito, l'ambito industriale come fluido di riscaldamento o raffreddamento. però vi posso fornire qualche dettaglio maggiore per andare a declinare ulteriormente questi usi. Allora, abbiamo detto, in ambito agricolo possiamo utilizzarlo per l'irrigazione. L'irrigazione può riguardare tanti ambiti. Il primo ambito è l'irrigazione di culture per l'alimentazione umana, quindi un utilizzo molto nobile. Oppure l'irrigazione di culture per l'alimentazione animale, quindi mangimi. Irrigazione di culture da energia, perché no? Irrigazione di aree verdi, per esempio i prati. Irrigazione di aree destinate all'attività sportiva come per esempio i campi da goli. Tutte pratiche di riutilizzo a scopo irriguo, tutte ovviamente legittime. Secondo ambito è l'ambito civile. Le acque affinate possono essere utilizzate per il lavaggio delle strade, per i sistemi di riscaldamento e per le fontane ornamentali. Quest'ultimo aspetto secondo me è particolarmente interessante, perché si riesce a ottenere qualcosa di bello, come una fontana ornamentale, in un modo anche buono, andando a riciclare dell'acqua affinata. Terzo ambito, che è stato subito citato da molti di voi, è l'utilizzo industriale, dato che le acque affinate possono essere utilizzate come acqua di raffreddamento o riscaldamento nei processi industriali, quindi negli scambiatori di calore, o anche nei sistemi antincendio. È interessante, anche se qui non ho riportato, il contributo fornito da uno di voi, usi domestici non potabili, assolutamente legittimo, possibile, probabilmente non molto impattante a livello quantitativo, ma nell'ottica dell'economia circolare è assolutamente interessante e ci sono anche dei piccoli progettini in cui è stato realizzato. Quindi per visualizzare con uno schema ciò che ho appena detto, possiamo riassumere con alcune figure quella dell'acqua di scarico, l'acqua reflua, che viene trattata in questi impianti di depurazione, quindi ripeto, con impiego di risorse, energie e tecnologie, è un peccato scaricarla semplicemente, ma le utilizziamo per tanti ambiti, irrigazione di colture orticole come i pomodori, tuberi come le patate, fontanne ornamentali o lavaggio delle strade. Bene, tutto bello in teoria, ma anche in pratica, perché la gestione efficiente della risorsa idrica è un accorgimento che già viene utilizzato con tanti vantaggi e punti di forza. Prima di tutto, a livello concettuale, il riciclo dell'acqua affinata consente la chiusura del ciclo della risorsa idrica. In secondo luogo, consente uno spreco ridotto o addirittura l'azzeramento degli sprechi di acqua affinata e uno sfruttamento ridotto di ulteriori fonti idriche. A fronte di questo, ovviamente, ci sono anche degli svantaggi o semplicemente dei punti a cui prestare particolare attenzione. Il primo è che c'è necessità di un continuo monitoraggio delle concentrazioni di alcuni contaminanti delle acque. La qualità delle acque affinate, quindi, deve essere nei limiti di legge. E anche la loro quantità deve essere sufficiente a soddisfare il fabbisogno idrico, altrimenti la fontana non viene più alimentata, i pomodori non vengono più irrigati. E in alcuni casi c'è la necessità di realizzare delle infrastrutture per il trasporto delle acque affinate dai punti di produzione, cioè degli impianti, ai punti di utilizzo che possono essere le aziende agricole. Una piccola precisazione sui requisiti delle acque affinate. Precisazione che, mi dite scusa, la faccio in quanto ex docente di chimica. Le acque affinate devono essere idonee dal punto di vista della qualità, quindi devono rispettare i limiti per alcuni contaminanti. Quali? Sicuramente dei contaminanti di natura inorganica, come i nitrati. Dei contaminanti organici, come i PCB, i policlorobifenili, dei metalli pesanti, come per esempio il piombo. E anche dei microrganismi, come per esempio le scherichia coli. Ora è chiaro che la concentrazione di questi vari contaminanti all'interno delle acque affinate dipende fortemente dall'origine dell'acqua. È chiaro che acque reflue industriali avranno dei problemi maggiori in termini di continuazione rispetto a quelle acque reflue civili. Quindi, diciamo, il prodotto finale della depurazione è sicuramente influenzato da ciò che c'è a monte. Ad ogni modo, tutte le acque possono in qualche modo essere le acque affinate, tutte possono essere valorizzate. E come vi dicevo, non è solo una bella idea sulla carta, ma è anche frutto del lavoro di questo progetto, che è il progetto Value Chain, Chain, dove Chain non è in inglese maccheronico, ma è un acronimo. L'acronimo di valorizzazione di acqua reflue e fanghi in ottica di economia circolare e simbiosi industriale. Nell'ambito di questo progetto, il Centro di ricerche nere di Bologna, cui lavoro attualmente, ha focalizzato la propria attenzione sul riutilizzo idrico a scopo irriguo, andando ad allestire una stazione di monitoraggio e irrigazione presso l'impianto di evaporazione acque di Cesena, appunto in provincia di fuori di Cesena. Il concept di questo progetto è illustrato nella foto che vediamo e che mostra la regione Emilia Romagna interessata da una serie di attività, tra cui quella di cui vi sto parlando oggi è proprio il riutilizzo sicuro delle acque reflue. Ovviamente poi il progetto è molto più ampio, mira a valorizzare anche altri reflui, ma la parte di nostro interesse è quella del riutilizzo sicuro delle acque reflue. Come può essere realizzato questo riutilizzo? Presso l'impianto di depurazione di Cesena, Enea, in collaborazione con alcune aziende, ha installato delle sonde per il monitoraggio della qualità dell'acqua. Si tratta di sonde che riescono a misurare la concentrazione di alcune sostanze, come per esempio i nitrati o i fosfati o il potassio, nonché alcuni parametri caratteristici delle acque senza scendere quel tecnico, per esempio il TH o la concentrazione di sostanze organiche. Bene, queste acque affinate sono state utilizzate per una sperimentazione, per il riutilizzo di queste acque affini irrigli. Esattamente a 100 metri dall'uscita delle acque affinate dell'impianto c'è una stazione di irrigazione di piante orticole, quindi dei pomodori in appositi cassoni irrigate con l'acqua uscente dei depuratori e di piante arboree, dei peschi, in appositi vasi. La qualità delle acque uscite viene costantemente monitorata, come anche viene monitorata la resa acqua e la dimensione di questi frutti, che sono irrigati con acqua affinata. Ovviamente accanto a questi vasi irrigati con acqua affinata ci sono anche dei vasi irrigati con acqua di rete, in modo da poter fare dei confronti fra la metodologia tradizionale, l'acqua di rete, e quella innovativa, l'acqua affinata. Ma si può fare di più. Come molti di voi sapranno, l'acqua non è solo H2O, ma contiene disciolti molti sali minerali e altri nutrienti, azoto, fosforo, potassio, e sono nutrienti di cui le colture hanno bisogno. Quindi fornendo l'acqua uscente dei depuratori si può realizzare un cosiddetto sistema di fertilizzazione, cioè fertilizzazione con i nutrienti, con azoto, fosforo e potassio, e irrigazione con l'acqua. Quindi in questo caso l'economia circolare sarebbe in qualche modo due volte valorizzata, perché si riciclano le acque affinate e perché si vanno a fornire con l'acqua dei nutrienti, che altrimenti dovrebbero essere forniti utilizzando dei fertilizzanti di natura chimica, quindi consente anche un risparmio di fertilizzanti. In tutto questo, qualcuno di voi, forse, se non sono stato troppo noioso, si sarà fatto una domanda, ma sempre nel rispetto dei limiti di legge, le acque uscenti dei depuratori sono tutte uguali? Hanno tutte la stessa concentrazione di sostanze? Beh, come più o meno vi ho accennato, la risposta è ovviamente no. Alcune acque saranno più pulite, in maniera più tecnica avranno una minore concentrazione di microorganismi e altri contaminanti. E altre saranno meno pulite, le concentrazioni di inquinanti purtroppo saranno un po' più elevate. Però la nuova normativa europea, la più recente normativa europea del 2020, è andata a fare un'ulteriore distinzione, perché secondo questa normativa le acque affinate possono trovare impiegi in agricoltura a seconda della loro qualità. quelle più pulite, quindi quelle che sono limiti più stringenti, hanno concentrazioni più basse di inquinanti, avranno un utilizzo un po' più nobile, presumibilmente colture per l'alimentazione umana. Le altre, quelle meno pulite, avranno un utilizzo meno nobile. Nessuno si lamenterà mai perché sono state levate delle strade con un'acqua con troppi nitrati. La normativa europea si focalizza soprattutto sul riutilizzo irriguo e cosa va a fare? Va a dividere le colture e di conseguenza anche le acque con cui vengono irrigate in quattro classi di qualità. Quindi senza voler entrare troppo nel dettaglio della normativa, il regolamento è il 741 del 2020, quindi qualcuno può consultarlo se ne ha curiosità, divide le acque in quattro classi di qualità. La classe di colture A sono quelle colture che vanno consumate crude, con parte commestibile a diretto contatto con le acque di irrigazione. Per queste colture sono necessarie acque di classe superiore, classe A, quindi i migliori, cioè quelle con le più basse concentrazioni per esempio di contaminanti microbiologici o solidi sospesi. Poi scendendo un po' di livello troviamo le altre classi, per esempio acque di classe B o classe C saranno utilizzate per andare a irrigare colture da consumare cotte o trasformate, patate, o anche colture che hanno una parte commestibile non a diretto contatto con le acque di irrigazione. Quindi non solo abbiamo l'importanza del tipo di coltura, ma abbiamo anche l'importanza del tipo di irrigazione. E proprio per non fare andare sprecata nessuna acqua affinata c'è anche una classe D con le acque meno pulite, ma ripeto sempre nel rispetto dei limiti di legge, colture che possono essere irrigate con acque di classe D come per esempio le colture a scopo energetico. In questo modo la normativa fa sì che delle acque affinate uscenti dai depuratori nessuna vada sprecata. Quindi in conclusione cosa vi ho voluto trasmettere in questa parte dei seminari? Beh innanzitutto un inquadramento generale. Il cambiamento climatico e il continuo sfruttamento delle fonti d'acqua sottopongono sempre più il nostro pianeta e nello specifico il nostro paese ad un crescente stress idrico. Cosa possiamo fare? Beh come abbiamo visto nella prima parte del webinar ogni cittadino è proprio piccolo, per ridurre i consumi idrici può adottare delle pratiche virtuose per limitare gli sprechi d'acqua. Dalla chiusura del rubinetto durante il lavaggio dei denti, all'installazione di toilette con un flussaggio differenziato, al controllo delle parti dei rubinetti. Un po' più in grande, al fine di ridurre lo sfruttamento delle fonti d'acqua, gli enti, gli enti e tutti coloro che si occupano di acqua a livello un po' più generale, cosa possono fare? Possono realizzare un percorso circolare per la risorsa idrica, un percorso che si è rivolto a utilizzare in campo agricolo, ma non solo, anche civile e industriale, le acque reflui affinate in modo da chiudere un ciclo nell'ottica appunto dell'economia circolare. Con questo ho concluso il mio intervento e sperando di avervi suscitato riflessioni e domande che spero arrivino. Grazie. Grazie per l'intervento. Assolutamente interessantissimo. Ripeto, comunque tematiche che approcciate scientificamente ci aiutano a capire di più come comportarci però nella vita di ogni giorno, quindi non sono solo nel mondo della fantascienza, ma appunto della scienza. Domanda, intanto ne è arrivata una relativamente proprio alle acque reflue che riguarda, diciamo, l'utilizzo delle acque affinate, quindi dopo il trattamento. Viene già fatto, se sì, dove, oltre ai progetti che è comunque citato, questa domanda è arrivata prima comunque di quelle slide, però magari vuoi aggiungere qualcosa al riguardo? Sì, grazie per la domanda. Questo mi consiglio di dire che è un processo, è una pratica che coinvolge vari stakeholders, diciamo, quindi innanzitutto coinvolge una regione, coinvolge il gestore degli impianti di depurazione, che è un altro soggetto, quindi deve mettere a disposizione le acque reflue e poi c'è chi va a utilizzare l'acqua affinata, quindi coinvolge magari un'azienda agricola nel caso. Questa è una pratica che comincia a prendere piede, è attuata in alcune zone, ma diciamo non è ancora molto diffusa. È diverso in alcuni paesi, come per esempio quelli del Nord Africa, paesi che, come dicevo prima, sono caratterizzati a stress idrico. Il riutilizzo, quello non tanto a fini agricoli, ma proprio a fini domestici, l'utilizzo delle acque di scarico domestiche è già utilizzato attraverso la realizzazione di piccoli impianti per il riciclo delle acque domestiche dopo depurazione, sempre a livello domestico. Sono ovviamente progetti su scala minore, ma già esistenti. Andando in questa pratica, è un po' agli albori, stiamo presente che il regolamento europeo è molto recente e, senza voler entrare troppo nel tecnico, questa normativa fornisce per il riutilizzo dell'acqua affinata dei limiti più blandi, quindi così si possono riutilizzare molte acque di scarico depuratori. Le precedenti normative fornivano dei limiti molto stringenti per il riutilizzo delle acque, quindi praticamente un'acqua depurata per essere riutilizzata doveva essere sottoposta a trattamenti molto spinti, il che faceva diventare questa pratica poco vantaggiosa dal punto di vista economico, ma in realtà anche ambientale, perché poi quei trattamenti potevano risultare più impattanti del riciclo stesso delle acque, quindi è una pratica che si sta facendo largo anche grazie a queste nuove norme che consentono un uso di più acque, anche quelle non di qualità eccessa, sempre però nell'ambito della sicurezza. Grazie. A proposito invece della domanda, grazie webinar sempre molto interessanti, scrive una docente, e a proposito invece della domanda che avete posto, che Silvio nella prima parte ha posto i docenti, che riguardava, avete parlato di riscaldamento globale, i docenti adesso chiedono, un docente chiedeva come queste informazioni di oggi, sia la prima che la seconda parte, possono invece essere portate a scuola, come possiamo fare? Potete darci qualche consiglio? Vuoi iniziare? Magari una domanda per entrambi, direi. Beh, sì, sicuramente, per esempio, anche nel materiale che abbiamo fornito precedentemente a questo webinar e che poi potete trovare sul sito. Ci sono diversi link a calcolatori disponibili online, anche sotto forma di videogioco, alcuni che troverete sul sito del WWF e altri proprio sul, se non sbaglio, che si chiama il Footprint Calculator, che danno la possibilità a chiunque di giocare virtualmente e di misurare la propria impronta ecologica da un lato e invece c'è anche l'impronta di carbonio e l'impronta idrica. E quindi attraverso anche queste esperienze in prima persona, secondo me, si può comunicare un messaggio ai studenti. E lo dico anche per esperienza personale. Grazie. Posso aggiungere qualche altro spunto che mi viene in mente durante l'esposizione. Se penso alle scuole in cui insegnate, quindi qualche istituto tecnico, sicuramente potrebbe essere interessante occuparsi proprio dell'analisi di acque, non necessariamente acqua e refle, poi chiaro, se c'è qualcuno che le fornisce bene. Però l'analisi di acque è per andare a monitorare questi inquinanti che sono la sottoposta normativa e vedere lo stato della qualità delle nostre acque, dei nostri bacini idrici. Oppure anche se pensiamo ai possibili utilizzi, tra cui quello agricolo, potrebbe anche essere interessante fare una qualche simulazione per vedere se in un comune, in una provincia, in una certa area geografica, le acque che escono dai depuratori, sono dati che si possono trovare in rete, sono sufficienti a soddisfare un certo fabbisogno in riguo. Se qualcuno può essere interessato alla coltivazione di pomodori, anziché altre colture orticole, peschi, patate, per vedere se la quantità delle acque uscenti, qualche milione di metro cubo di acqua, va a soddisfare effettivamente il fabbisogno il riguo di una certa coltura che può essere, a seconda coltura, dai 500 ai 2-3 mila metri cubi ettaro. Quindi anche poter fare dei bilanci e anche uscendo dalle materie tecniche che sono un po' più di mia competenza, come avete visto, dato che c'è a livello mondiale una grossa disparità di stili di vita, di consumi, si possono anche fare delle riflessioni su tematiche, in che materie, come può essere la geografia, per esempio. Lascia spazio secondo me a molte interpretazioni, molti spunti, spero. Assolutamente. Ti avete citato, insomma, tra le metodologie che attualmente si consigliano di più. Quindi intanto usare la competenza digitale in maniera trasversale e interdisciplinare quello che cerchiamo di fare anche con questo progetto, nel primo caso quello consigliato da Silvio Viglia, nel secondo mettere in atto comunque una didattica di tipo laboratoriale che preveda comunque un momento di confronto anche pratico, oltre che anche nel secondo caso il consiglio sulla geografia riguarda appunto la trasversalità comunque di questa materia, in generale comunque il consumo sostenibile nell'ambito di sapere consumare, ma in generale la tematica dell'ambiente trasversale e le discipline scolastiche. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ringraziamo Silvio Viglia e Luigi Sciuba, esperti di Enea che oggi ci hanno aiutato a capire qualcosa in più sulla tematica dell'impatto ambientale e anche della gestione della risorsa acqua. Ci diamo appuntamento, grazie, molto interessante, stanno scrivendo i docenti, vi riporto comunque questi commenti perché restituiscono sempre il senso anche di questi appuntamenti. Vi leggo anche un ultimo commento arrivato che riguarda i modelli per misurare tutti gli impatti e non solo quelli ambientali che hanno comportamenti, scusate ci sono modelli reali, cioè si chiede questa docente se c'è un modello per misurare tutti gli impatti, non solo quelli ambientali, che hanno i nostri comportamenti quotidiani, quindi un modello che sintetizzi tutto. Ebbene da tutti i punti di vista, qui aggiunge, quindi è un altro commento relativo invece alla nostra ultima riflessione, la digital literacy è utile da tutti i punti di vista considerando tutti gli impatti possibili, ad esempio, quindi è una riflessione sulla competenza digitale, il fatto che sia comunque utile per approcciarsi a questa materia. La prima invece riguarda la misurazione degli impatti in un unico schema. Mi lascio questo ultimo commento se abbiamo qualche minuto. Sì, in realtà a fianco, parallelamente all'analisi del ciclo di vita per valutare gli impatti ambientali ci sono anche altri due approcci tra virgolette simili, una è l'analisi del ciclo di vita dei costi economici e un'altra invece legata agli aspetti sociali. Sono due metodologie che complementano l'analisi del ciclo di vita tradizionale, che però sono ancora piuttosto giovani e quindi sono ancora in via di definizione, soprattutto quella riguardante gli aspetti sociali e quindi nella quale vengono valutati il livello di occupazione e tanti altri indicatori importanti dal punto di vista sociale. Quindi dal punto di vista scientifico ci si sta muovendo in questa direzione. Rinnovo i ringraziamenti ad entrambi e con i docenti ci diamo appuntamento alla prossima settimana a partire da martedì. Come ho detto in apertura si aprirà il ciclo dedicato all'educazione finanziaria che è il quarto tema di questo percorso. Ovviamente approfondiremo quali sono gli strumenti finanziari, economico finanziari che possono renderci la vita più semplice sulle piattaforme digitali. Vedete dall'1 febbraio, quindi da martedì fino al 15 febbraio, martedì e giovedì avremo appuntamento con il relatore e le relatrici di Banca d'Italia che ci daranno quindi dei consigli per approcciarci alle piattaforme digitali, agli strumenti finanziari in maniera più consapevole e come sempre riportare questi contenuti nelle vostre classi. Il calendario dei webinar è disponibile su sapereconsumare.it slash webinar. Potete quindi consultarlo con calma al di là quindi di questa slide e da lì potete anche iscrivervi ai webinar. Per quanto riguarda l'attestato, visto che qualcuno di voi lo stava chiedendo, come anche le registrazioni, quindi solo un secondo per dare questa informazione tecnica. Gli attestati vi arriveranno tramite email, quindi non dovete richiederlo, vi arriverà direttamente alla vostra mail. Mentre per quanto riguarda la registrazione di questo webinar come di quelli precedenti, le troverete, alcune sono già disponibili, ma le altre lo saranno presto, sul sito sapereconsumare.it e sul canale YouTube del Ministero dello Sviluppo Economico. Per altre domande che sono rimaste senza risposta ci auguriamo di nuovo. Per qualunque esigenza potete contattare il numero verde al numero che vedete 800 58 39 29 e per rimanere comunque aggiornati anche sui nuovi contenuti che pian piano stanno arricchendo il sito sapereconsumare.it, ad esempio queste attività di cui vi ho parlato in apertura per portare questi temi in classe anche in vista del bando di concorso. Potete iscrivervi alla newsletter, trovate un apposito spazio nell'area riservata del sito, basta lasciare la vostra email. Ci vediamo allora martedì, grazie ancora di aver partecipato così attivamente e grazie ovviamente ai relatori di oggi ancora una volta. Arrivederci.